L'IZS è davvero un punto di eccellenza mondiale, lo ha detto questa mattina il neogovernatore Luciano D'Alfonso visitando la struttura e dopo essere stato ricevuto dalla direzione dei vertici amministrativi dell'importante istituto di ricerca Terramano. La visita ha consentito al presidente D'Alfonso di conoscere le attività in corso dell'istituto ed è stata anche l'occasione per discutere di come sostenere le future ricerche in campo scientifico da parte della regione Abruzzo. Il direttore Fernando Arnolfo ha illustrato le tante eccellenze dell'IZS come la sanità animale e benessere, la salute e l'ambiente, i sistemi informativi, la sicurezza alimentare, la sorveglianza epidemiologica, la formazione, tutti i punti importanti per l'istituto. Direttore oggi una visita importante è quella del neogovernatore Luciano D'Alfonso qui all'IZS. Sì, è una visita di cui siamo onorati ed è una visita gradita, ma soprattutto il significato ha un significato particolare perché è una delle prime visite ufficiali, diciamo così, del presidente accompagnato dall'assessore e dal nuovo capogruppo Mariani. Però questo è un segno molto importante di attenzione verso questo ente. Questo ente merita secondo me l'attenzione di questa giunta regionale e non solo del Molise e del Ministero perché si abusa molto del termine eccellenza, però noi riteniamo che questa eccellenza riusciassimo in grado di provarla, di provarla attraverso dati, attraverso parametri, attraverso indicatori ed è quello che stamattina vorrei fare di fronte al Presidente, di spiegare la ricchezza di questo istituto per questo territorio e spiegare le potenzialità anche perché questo istituto è cresciuto enormemente sotto il profilo, soprattutto sotto il profilo nazionale e internazionale. è un'autorevolezza che sicuramente travalica anche i confini nazionali e questo ovvio costituisce un elemento per cui è doveroso difendere questo istituto ma anche farlo crescere e non è facile.